E' cominciata in Via Verdi lo scorso 14 febbraio una serie di incontri sul piano della raccolta differenziata. Il Presidente del Consiglio, Leonardo Impegno, i Vicepresidenti, Vito Lupo e Vincenzo Moretto, la Conferenza dei Capigruppo e l'Assessore Nasti hanno dato inizio dunque ad una campagna di ascolto per raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte dalle forze produttive, sociali e associazionistiche della città sulla raccolta differenziata. Il primo incontro, avvenuto con le segreterie provinciali e delle organizzazioni sindacali, è stato seguito da un doppio appuntamento, prima con il Presidente dell'ASCOM, Antonio Pace, e poi con l'Unione degli Industriali, Gianni Lettieri. Scopo degli incontri, promossi dal Consiglio Comunale di Napoli, e di coinvolgere la città per la realizzazione del piano su rifiuti che dovrà essere presentato entro l'8 marzo. Il risultato complessivo di queste audizioni sarà trasferito all'Aggiunta, che sta programmando il piano sulla differenziata e che il Consiglio Comunale è pronto a discutere al più presto, tenendo conto anche delle individuazioni di altre risorse finanziarie per gli interventi operativi del piano. Numerosi interventi politici sul tema. Tutti i capi gruppo hanno concordato sull'importante ruolo delle organizzazioni sindacali, dell'ASCOM e dell'Unione Industriali, rispetto alla problematica legata sia al ciclo dei rifiuti che alla raccolta differenziata, una collaborazione indispensabile per uscire dall'emergenza e per programmare i prossimi interventi. Le prime ad essere ascoltate, il 14 febbraio, sono state le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL e UGL. Tutte si sono dichiate disponibili a contribuire alla realizzazione della raccolta differenziata. Diverse le proposte avanzate da Giuseppe Enrico, CGL, Giuseppe Gargiulo, CISL, Giuseppe Stellano, UIL e Francesco Falco, UGL. Interessanti le proposte del presidente dell'ASCOM, Antonio Pace. In un incontro del 15 febbraio, tra le tante idee, ha dichiarato la massima disponibilità dei distributori di carburante ad ospitare in alcune stazioni di servizio delle mini isole ecologiche per il conferimento di rifiuti differenziati. Anche le industrie napoletane scenderanno in campo per facilitare la risoluzione dell'emergenza rifiuti. Lo ha confermato il presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Gianni Lettieri, in un incontro con i capi gruppo del 18 febbraio. Gli industriali presenteranno una proposta sulla raccolta differenziata che sarà affidata alla presidenza del Consiglio perché sia valutata dall'amministrazione comunale.